Giacomo! Pronto, eh? Vai, Robo! Allora, Luca, Luca! Grazie, Luca! Grazie, Luca! Sì, Luca, Luca! Sì, Luca! Va bene, va bene, va bene, restarla, restarla! Sì, recuperi, Luca! Numero 23 Secondo e a primule Secondo jetzt 15, secondo fallo e secondo di squadra Luca vai Luca, Luca, Luca vai Luca vai Bene, recupera Luca, bravo, dai fuori, via via, andiamo, attacca Nico, attacca, cambio, cambia con Niccolò, no no scusa, cambia con Petra, dai gioca, gioca, attaccalo, dai su, qui da sinistra, si bravo, Luca, vinto, vinto, sedici, bravo Luca, Luca, Luca di più, bravo Luca, bravo Luca, bravo Luca, bravo Luca, bravo Luca, bravo Luca, vinto, 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 vinto Super il primo ferro e tira dritto, tira dritto, morbido, super il primo ferro, dai petri Dai, va bene, va bene, petro, dai Questo, questo è un ragazzo di Tadola, un ragazzo di Tadola, un ragazzo di Tadola, un ragazzo di Tadola Bravo Luca, vai, dai, bravo, bravo, andate lì, andate, guardate, guardate, guardate E la fuori, guardate, guardate la mano Ballo, fredalo, 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 vai, vai, dai presa, presa dai aria aria al doppio aria aria al doppio via a correre siamo attacca bravo bravo net bravo net secondo fallo luca e giacomo e bianchi il 16 rampa e 23 Prendi l'undici Matteo, Riccardo quattordici, Petra tredici. Prendi l'undici Matteo. Prendi l'undici Matteo, Prendi l'undici Matteo. Ehi, chiuso, dai. Ritupo la mete, tira. Aggressivo lo doppio, aggressivo lo doppio. Metti di pressione Rampa, non farlo tirare. andiamo a raddoppiare giù di più Matteo e e e e e ancora, vai raga bella diffusa si, mate, mate, vai vai mate va bene, va bene da cambio Matteo, dimmi 12 Nick, come prima parata ehi, se no, teniamo giocate bravo, Ritti arcello raddoppio ti metti in posizione e predisponda ti metti in posizione è stato in ritardo quindi di più posizione si, se no, beh poi era di fianco si, se era di fianco no insomma, devi giù davanti devi giù davanti perché sono vantato è là fuori il vettino è là fuori si, 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 presa tufo, tufo devi devi doppio doppio gialla doppio doppio 8 8 8 8 secondi 14 13 13 13 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 6 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 7 7 7 7 7 7 7 Grazie, bravo Nick! Bravo! 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 Raffa è tu, canestro! Raffa è tua! Vai! Bravo! Raffa è tua, canestro! non sei un tiratore a troppo a meno che tu non sia libero di scalico l'uomo non vai a tirare dargli sali su sali su Nick guarda Nick nero nero tordo tordo madonna santa benedetta nero 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 tu guardi neanche la parte tranquillo mi raccomando sei la fuori Matteo dai 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 ecco dai Emma miglioro 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 in mezzo dove 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 vai vai Matteo in mezzo arrivo imlu l盲 5 16 11 20 20 21 18 Matteo, 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 Matteo! Nick, Nick! Guarda Nick, guarda Nick! Guarda Nick! Tommy! Mignolo! Aiuto! Mignolo! Nick, Nick! Mignolo! Mignolo Nino! Si, lascialo uscire, lascialo uscire! Vai! Basta dentro! Si! Buono, buono, buono! Basta dentro! E' che sono due piedi. 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 E' che sono due piedi.